Guys, veloce post partita di Fiorentina-Lazio, anche perché tra poco saremo in live con la live reaction ovviamente in compagnia di Peonia. Yuppie aye! La Lazio pareggia sul campo della Fiorentina 1-1 dopo un ottimo primo tempo, dove la Lazio voleva tranquillamente finire la partita 3-4-0 con 4 occasioni sciupate malamente, uno la correa, uno la immobile, poi immobile ok, fa quel bellissimo gol da fuori aria, fatto sta che paghiamo ragazzi, paghiamo quei 4 gol manchiati al primo tempo. La paghiamo perché ci sono 11 che dormivano in piedi, stavano a dormire in piedi i boys, perché prima fanno una bella partita, se mangiamo i gol, se mangiamo i gol, possibile che la Lazio si deve sempre mangiare i gol? Cioè escono sempre dal campo che hanno la panza piena per quattro i gol si mangiano. Tra l'altro è sfortunato immobile ok però. Uno l'abbiamo fatto, però dopo che hanno fatto il gol e che si sono attrippati con quell'altri, se siamo a dormire perché dopo che mangi poi dormite via la biocca. Eppure a Cerbi comunque. Perché stava a giocare bene, stava a fare una bella partita, buttata via al primo, tirò un po' a volta dalla Fiorentina. E' bello che aveva detto a Cerbi al fine del primo tempo. Siamo attenti che questi nel secondo tempo, si sa che si risvegliano sempre, Francesco ha fatto un discorso secondo me giusto. La Fiorentina era una brutta squadra, hanno buoni giocatori, ottimi giocatori. Perché hai dovuto buttare? Però al primo tempo la Lazio poteva stare tranquilla, la Lazio nel primo tempo ha dominato. Lo possiamo dire, la partita si giocano 90 minuti ragazzi. La Fiorentina nel secondo tempo ha iniziato a giocare dal cinquantesimo, al primo tiro un porta vero e proprio. Perché Stragoscia non ha fatto manco mezza parata, al primo tiro un porta vero e proprio di tutta la partita. Ci hanno purgato. Ragazzi non va bene così, non va bene perché poi giustamente... No perché poi ti fai cadere sui cogliori anche la partita perché dici cazzo stiamo a giocare bene. Cazzo i gol non entrano le palle, ne fai uno per grazia divina e al primo tiro un porta... Cioè te viene a depressione, te viene a depressione e dice cazzo ma non è possibile e non è possibile. Lo sai qual è l'altro problema? Non è possibile. Lo sai qual è l'altro problema poi secondo me Peo? Che nel secondo tempo dopo anche l'1-1 la Lazio non è che ha fatto chissà cosa per andare a vincere la partita. Cioè il tormentale ha detto vabbè, allora quattro gol e se li siamo mangiati, uno è entrato e la partita è fatta. No cazzo. Cioè la Lazio ha provato a svegliarsi agli ultimi minuti cercando il gol, sfruttando una condizione fisica da Fiorentina che non ce la faceva più dopo aver recuperato la partita. Però quando nel secondo tempo i migliori in campo diventano Marusic e Patric, bisogna farsi due domande perché in campo c'era ancora gente come Correa, Immobile. Io da loro mi aspetto che mi rimangano costanti. Il primo tempo è stato straordinario Correa, migliori in campo. Poi però la Lazio è calata perché forse davvero come dicevi tu, si era buffata troppo. Si è buffata. Sì, 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 sì. E' un passaggio incredibile, non so come ha fatto a non entrare quella palla, grazie divina che non abbiamo fatto due a uno. Ma davvero se sono addormiti. E questo è un problema ragazzi. Non si può più a gol dopo il primo tiro in porta. Non si può. E ripeto che stai a dominare la partita, stai a giocare bene. Cioè non fanno nulla, gli devi regalare un gol. E poi adesso la situazione in classifica diventa pesante perché Inter e Milano hanno iniziato a vincere. La Roma gioca domani con l'Empoli, se si fanno due calcoli perché la Roma non è un bel periodo. Ma insomma, la Champions ragazzi penso che sia una questione abbastanza chiusa. Poi molto dipende dalla Lazio-Udinese, dipende da quello che faranno Roma, Inter e Milano nei prossimi anni. Però qui la Lazio ha toppato clamorosamente. Dopo un ottimo tempo, mi aspettavo tutt'altro la Lazio nel secondo. Sono amareggiato, anzi siamo amareggiati. Sì, proprio quando le perdi così, raga, non c'è niente di niente. Le pareggi, le pareggi, è un punto ma si poteva fare molto di più perché la Lazio il primo tempo ha dominato questa cantina. Non mi frega me che punto, ma io guardo un po' tutto. Cioè, il punto, te sei maniata a tre punti importanti. Perché cosa? Perché cosa? Perché te sei addormentata e perché quattro palle non sono entrate? No, devi continuare. Allora che dobbiamo vedere? Che dobbiamo fare nella vita nostra? I palle non sono entrate? Eh vabbè, allora 1-0. No. Detto questo, ragazzi, la parola lasciamo a voi. Ci vediamo tra pochissimo, per chi vedrà la reaction delle undici ovviamente. Ci vediamo tra pochissimo. Adesso dovete spolliciare, commentare, condividete, ditela vostra. Pass lane, pass lane. Sì, dite la vostra, mi raccomando, nei commenti. La Lazio ha meritato di pareggiare? Secondo me sì. Secondo me sì, non meritavamo la vittoria perché come abbiamo gestito il secondo tempo. Merita un sacco alle schiaffi, tutti quanti. Sempre forza Lazio carica, dai, dai, speriamo, speriamo bene. Ma se è Gennaro, ci siamo rimasti male, si fa così.